E adesso parliamo di una cosa bella, molto bella come è il teatro in generale, ma nella circostanza è proprio bella. Perché? Perché coloro i quali hanno il vantaggio di poterle vedere in video, sul 635 e in streaming, avranno già capito di che si tratta. Dunque, io vi annuncio lo spettacolo che si chiama Cattive Ragazze, in scena al Teatro dell'Angelo, uno splendido teatro, fra l'altro nel mio quartiere, quindi è un teatro a cui tengo molto, ha una tradizione di spettacoli di altissimo livello e nella circostanza questo spettacolo la rispetta, perché Cattive Ragazze è uno spettacolo pieno di cose, c'è umorismo, c'è riflessione e poi ci sono importanti attori, quali quelli che vado a presentarvi. Allora iniziamo da Francesca Nunzi. Francesca, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, ben trovati, ciao. Parliamo prima delle donne perché avanno la bottee, dunque Carmela Ricci, buongiorno, volevo vedere se eri attenta, volevo vedere se eri attenta, l'ho fatto apposta, è un test assoluto. Laura Baldi. Bella Lauretta, quanto sei bella, ti è piaciuta la gag? Grazie, moltissimo. Lo faccio sempre, lo faccio sempre. E poi lei? Lei? Flaminia Parnasi, autrice. Allora, siamo a parlare anche con il protagonista maschile, con il nostro Paolo Gasparini, che è benedetto in mezzo a tutta sta... Molto, molto benedetto, tra l'altro ne manca ancora una di donna splendida, che è Carmela Ricci e ti ricordo il mio collega amatissimo che Lolli, Andrea Lolli. Così è detto così, ti ricordo, ricordiamo il mio collega Lolli che sembra che ci abbia lasciato, che è una cosa brutta. Sai, siamo poco avessi al mezzo, insomma, per cui... Non credo proprio, non credo proprio. Allora, Cattive ragazze, raccontatecelo un po' questo spettacolo, ovviamente le cattive ragazze siete voi, unitamente appunto all'assente Carmela Ricci. Eccoci qua, raccontiamoci. È la storia di tre affascinanti, molto intense e molto speciali donne di oggi, le quali sono, diciamo, tutte un po' leggermente problematizzate sul cercare l'uomo della loro vita. Una affascinante scrittrice di horror, una ragazza che passa le giornate tra la meditazione, la ricerca del Buddha, l'illuminazione, i mantra e... Insomma, una stripper, come la definiremo oggi. Sì, 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 assolutamente. No, queste del Buddha, delle cose che poi alla fine proprio ti ammazzano, no? Per scappare ai dolori della vita quotidiana. E un'altra ragazza siciliana che all'ennesima laurea sta cercando anche lei di superare la virginità dei 33 anni. Tutte quante vanno dallo stesso psicologo per un motivo o per un altro e non so se continuare... No, non devi svelare tutto lo spettacolo. E c'è, diciamo, un affascinante amico dello psicologo, tale Andrea, interpretato da Paolo, il quale, diciamo, è traumatizzato dalle sue esperienze affettive infantili e cerca nella donna una consolazione ai suoi problemi. Come tutti gli uomini un po' oggi. Vedremo come si vana. L'eterno problema del nostro quotidiano in sostanza, no? Eh, appunto. Senti, e tu come fai a risolvere dopo essere stato traumatizzato? Come faccio è l'essenza dello spettacolo, quindi non posso dirtelo. Bravo. Perché diciamo è tutta la parte escatologica, possiamo dire. Bella, escatologica, fa supermercato da morire. L'ho studiato stanotte ma ho detto, non mi sparo, il grande Marcello. Grande Paolo. Però, insomma, diciamo che ci sono... ricorro a soluzioni che il nostro pubblico sembra gradire molto, insomma, assolutamente esilarante. Prenderanno anche spunto, secondo me. Prenderanno, prenderà sicuramente, ci sarà da prendere degli spunti e, diciamo, è un pretesto per divertirsi molto insieme. Che volevi dire, Flaminia? Ti vedo che stai per dire cose... Allora, perché, allora, la mia esperienza, oltre a me, c'è nasce dal fatto che io ho svolto proprio, e svolgo la funzione di coach, cioè lavoro con la psiche delle persone per aiutarle a realizzare i target della loro vita. E a te chi ti aiuta, Flaminia? Io, guarda, io ho una... No, perché il grande interrogativo è questo. Allora, guarda, il problema è questo. Io mi confrontavo a una mia figlia e dicevo proprio adesso, adesso mi rimane solo in Lourdes e dopodiché non so dove altro andare. Però il fatto è che questi uomini che cercano, diciamo, che cercano comunque, vabbè, l'automigliore ammbramento, le donne, eccetera, eccetera, attraverso questa commedia possono individuare che per conquistare una donna bisogna individuare quali sono i valori di questa donna. Questa è fondamentale, è un mantra, definiamolo un mantra. Il principio della istituzione ipnotica è capire che cosa piace a una donna. Per conquistare una donna devi capire quali sono i suoi valori. Vabbè, ma i miei crimini sono sempre quelli. C'è, c'è la prima volta, fai quattro personaggi, Kafka, John Way, Beretti Verdi e cose, eccetera, poi lei sceglie quello che più la aggrada. Vedi, Marcello, come al solito ti distingui per l'intuito e particolare sensibilità. Eh sì, perché poi siete voi che create noi, no? Perché noi non esistiamo in realtà. Però abbiamo... Voi vi adattate. Capito? Voi vi create l'immagine e la coltivate. Dunque, per esempio, Francesca Nunzi. Francesca Nunzi è una persona che nella vita è quanto di più regolare esiste, perché madre, moglie, tutto regolare, eccetera, eccetera. Preparatissimo. Nell'immaginario collettivo Francesca è l'oggetto del desiderio di chi? Ma pur adesso, bella, pur adesso. Ma c'è una scadenza tutto il show. Ti dico di no, ti dico di no, ti dico di no. Quindi, qual è il tuo personaggio, Francesca? Io sono la scrittrice di horror molto coatta, molto coatta. Non capisco come mai mi fanno sempre fare questi ruoli anche io. Diciamo, però in realtà è molto geniale a suo modo questa qui, perché comunque alla fine riesce nel suo intento, senza che ti sto a dire tutta la storia. Comunque questo personaggio irruento, aggressivo, però poi in fondo neanche troppo cattiva, perché alla fine cerca anche di aiutare tra di noi, tra noi ragazzi, insomma, ci si aiuta. È un personaggio standard, se vuoi, hanno anche scritto tipico dei film di Verdone, sai la coatta, che devo dire, insomma, mesce. Verdone non può essere coatta perché è sempre Margherita Bui, cioè nei film della commedia italiana... No, parlavo di lui, al maschile, cioè di quelli che fa lui, insomma, ecco. Il coatto visto da Verdone. Se no se c'è un personaggio malinconico è Margherita Bui, sempre, con chiunque. È vero, certo, certo. No, no, dicevo il coatto visto con gli occhi di Verdone, insomma, quel tipo di coatto lì, ecco. Certo. Fa molto divertente, mi diverto molto e mi dà modo anche di poter, diciamo, avere un linguaggio che il personaggio consente, altrimenti sarebbe un po' forte, no? Giusto? Assolutamente. Però il personaggio lo permette. Laura Baldi. Laura, qual è il tuo personaggio? Che cosa interpreti tu? Io sono con lei che vive tra Meditazione, Lexotan e Tavor. Eh, che bella. Eccomi. Meditazione, Lexotan e Tavor. Esatto. Te manca il plutonio, come disse Marco Giallini, poi c'hai tutto. Mi faccio di tutto, alla ricerca disperato del Principe Azzurro. Hai capito, lei così eterea, la vedi. Poi ci siete tutti però, siete stati scelti veramente con grande cura, perché vedendovi esteticamente rappresentate proprio il personaggio. Dunque siamo in, lo dico perché ormai siamo una grande famiglia qua, siamo in scena da una settimana e staremo ancora una settimana al Teatro dell'Angelo. So che c'è una bella frequenza, so che vengono mandati amici, il famoso passaparola, no? Che hanno visto lo spettacolo, eccetera, eccetera, e che quindi si perpetua questo successo con la soddisfazione anche di Avallone, che è il direttore del Teatro dell'Angelo, giusto? Assolutamente sì. E ancora lui, sì, io lo ricordo come tale. Cosa volete aggiungere a... Io credo che quello che ci viene riconosciuto è anche la risposta a un'esigenza fondamentale di questo momento e noi vediamo anche, rispetto a tutto quello che ci accade, la funzione del teatro in questo momento è anche venire a passare un'ora e mezza in allegria, uscirne un po' più distesi, un po' più di buon umore e farsi qualche sana risata, secondo me è importante, quanto riflettere anche su ciò che ci accade, insomma. Io ho degli amici veramente coatti e veramente scarsamente alfabetizzati, ai quali io dico sempre, voi dovete andare a sfeare, sia o ma due palle, no, non ci siamo capiti. Guarda, Marcello, ti dico la soddisfazione di questo spettacolo, sono venuti anche molti un po' con la puzza sottanata, io ti confesso di essere uno che per esempio a teatro non ride particolarmente, nel senso non esterno le mie reazioni in maniera particolare, però anche coloro i quali, diciamo, possono aver avuto qualcosa da ridire così, tutti ci hanno riconosciuto il fatto che si sono divertiti, sono stati bene e insomma hanno anche uno. Ma poi c'è l'altro aspetto, ho detto a questi miei amici, dirò sempre, quando andate a teatro uscendo sarete comunque più ricchi, perché una cosa l'avete imparata di quello che vi manca, no, siccome siete veramente coatti e parlate sempre di tre argomenti con lo stesso lessico, no, perché come la radio, la bellezza della radio qual è? La parola, la possibilità di sviluppare la parola nella sua ampiezza, uscire dagli schemi, no, usiamo tutti gli stessi termici, a teatro è uguale, vai a teatro e anche negli spettacoli più intensi, tu dici però questo non lo sapevo, hai capito? No, poi questa commedia in particolare, il linguaggio di questa commedia spazia veramente dall'iperintellettuale al più becero dei... Ce n'è veramente per tutti. L'hai scritta, Flaminia, pensando a che cosa? Pensando al tuo quotidiano, cioè quello che vivi anche... Sì, assolutamente, esperienze fallimentari depressive mie e delle mie amiche alla ricerca di... Sei ancora nel tunnel tu, Flaminia, o stai uscendo? No, 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 ma te l'assicuro, te l'assicuro, guarda... Ci siamo tutti poi nel tunnel, insomma... Assolutamente, no, 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 siete uguali, i miei clienti sono tutti più felici di me, io lo dico sempre, no, no, assolutamente, diciamo, più che altro ho imparato ad accettare il tunnel, a farmelo piacere, insomma, a trovare qualche spazio di allegria e di gioia, insomma, a fare finta di niente, a pensare che tutto sommato il tunnel è un'esperienza di vita e viviamola. E poi soprattutto che molti pensano che la vita è una passeggiata di salute, non è così, perché non è proprio... L'assunto io quello che è successo da quando sono nata. No, capito, se la vivi, se poi ci passi attraverso perché fai massa, allora è un altro discorso, in realtà. Assolutamente, ma se Woody Allen non avesse avuto quella madre terribile, non avrebbe scritto quelle commedie così. Ma te la ricordi quella battuta di Manhattan, lui quando esce le prime volte con Diane Keaton che le dice sei talmente bella che non riesco a tenere gli occhi sul tassametro? Che gli vuoi dire uno così? Ecco, guarda, l'adoro, l'adoro. Francesca, allora, Francesca Nunzi la conosciamo tutti, hai una filmografia lunghissima, continua ad averla ancora, teatro ne fa tanto, hai anche dei progetti futuri al di là di quello che possono essere quelli della tua famiglia? Sì, certo, io penso sempre, infatti a casa lo sanno e mi aiuta tanto mio marito poveraccio perché io ho sempre la testa, vabbè mi funziona solo una parte del cervello, quindi quella del lavoro, della creatività, per cui scrivo progetti miei e poi spargo tanta energia positiva perché voglio sempre fare, quindi coinvolgo un sacco. Mi piace tanto creare delle situazioni di amici per cui scrivere, fare, facciamo un progetto e secondo me questo è bello e poi nel momento in cui ci troviamo non è che possiamo stare lì a pensare prima o poi mi chiamerà chissà chi, però non succede, non succede, siamo tanti, siamo troppi e quindi è meglio raso raso al muro farsi le cosette proprie, per cui io sono felice così. A me ha colpito una dichiarazione di Garrone l'altro giorno a Cannes quando in un'intervista ha detto dunque io sono riuscito a resistere alla tentazione di non entrare nella trappola del successo dopo Gomorra, dice mi sono arrivati i copioni dall'America, da tutte le parti perché volevano che io girassi dei film sul gangsterismo, sulla mafia eccetera, dice sono riuscito, dice il mio più grande successo è stato respingerli perché finalmente ho potuto rifare un altro film come lo intendo io che è questo reality che adesso poi sarà bello, non lo vedremo quando andrà, ma per esempio vedi, avere un'idea, quello che diceva Francesca me l'ha fatto venire in mente, di condivisione, di sviluppo con gli amici, di idee soprattutto, no? Sì, nascono tante cose, cioè da un'idea tua un altro può avere, ma sì magari facciamo così poi si mettono insieme le forze, bisogna fare questo, in questo momento storico particolarmente, soprattutto poi nel vostro lavoro, nella vostra professione, Laura Baldi parlaci un po' di te, tu che te ne stai fintamente lì, quieta, ma in realtà sei una tigre, sei una belva, no, è vero che è una belva, no, no, sono dolcissima, sono dolcissima, che cosa vuoi sapere? Volevo sapere un po' del tuo curriculum, del mio curriculum, e poi se esci stasera a cena con me anche, perché tutta una serie di cose, sì. Allora, allora, il mio curriculum, da dove vogliamo partire? Dai 17 anni, parto da Savona e comincio a girare il mondo facendo la modella, poi mi stanco e decido di venire a studiare recitazioni a Roma, brava, e cambio completamente vita. Con chi hai studiato? Ho studiato con Francesca De Sapio, Geraldine Barron, Susan Batson in America, però, mi sono trasferita per un po' a Los Angeles a studiare con lei, e poi ho fatto parecchi parecchi cortometraggi, ho vinto un sacco di premi, piccole parti in fiction, e questa esperienza teatrale è praticamente la mia primavera, perché quelle scuole... Quindi importantissima, no? Importantissima, importantissima, con dei colleghi fantastici, senza i quali non avrei potuto farlo, regista meraviglioso, e quindi no, esperienza... Perché ti sei stancata della moda?